C'è qua da Sandro Cane dell'Oscurità, siamo appena tornati della spesa, ho preso la cena per stasera veramente per tutti, ho speso 90 euro, ovviamente c'è per stasera, c'è il pranzo per domani che arriva mia sorella, però io ho finito di lavorare al 15 perciò non lo so come andrà a finire, adesso ho provato, adesso provo a vedere come si fa a iscriversi a Glovo, fare consegne, provo a sentire un posto che sta cercando, a San Giovanni di Patotto, distante, 20 km, 30 km, che bisogna fare mattina e sera, perciò sono 20, 40, 60, 80, 80 km al giorno, comincia ad essere un po' pesante il motorino, vabbè vedremo, intanto vediamo, ci vediamo al prossimo video, ci torniamo, ciao ciao.